In collaborazione con Pittura Edile Goffi, Trattamenti e Soluzioni per l'involucro edilizio, Via Piave 159, Santa Maria Nuova, Ancona. Svanca Marche è l'ultimo evento promosso da ME e MMT Marche, gruppo dichiaratamente a partitico e a politico, che intende promuovere una politica per la piena occupazione. L'evento, tenutosi nei giorni scorsi a Senigallia, ha inteso chiarire che cosa si c'era dietro l'ultima crisi bancaria che ha riguardato Banca Marche e all'origine di un ulteriore depauperamento del risparmio in Italia. Il riferimento è in particolare alle nuove regole europee, cosiddette del bail-in, recepite in fretta e furia anche nel nostro Paese, proprio nel contesto del default finanziario, che ha coinvolto quattro banche e migliaia di investitori. Tra i relatori è anche l'avvocato ligure Marco Mori, esperto di diritto in materia finanziaria e da anni impegnato sul fronte del risparmio. Per lui le nuove regole, se possibile, peggiorano le cose. Si va verso la distruzione completa del sistema bancario, che non può minimamente reggere a queste condizioni. Pensate che viene di fatto completamente ribaltato il paradigma. Non è più la Banca Centrale o lo Stato che può garantire il settore bancario, ma sono i clienti delle banche che devono fare da garanti. Questo ovviamente è insostenibile. Il nuovo fondo di garanzia, che sarà europeo, in mano a questo comitato di eletti da parte della Commissione Europea, quindi non scelti dal popolo, si capitalizzerà soltanto tra otto anni nella misura dell'1% del totale dei depositi bancari. Cioè il sistema bancario è già di per sé fallito con questo tipo di regole, perché ovviamente se non c'è più dietro la Banca Centrale tutto il resto diventa non sostenibile. È un'unione bancaria di nome di fatto, perché determinerà il fallimento di gran parte degli istituti bancari e quindi la riunificazione sotto un unico cartello del credito. Il contesto generale nel quale questa ennesima crisi bancaria si è inserita vede già il sistema economico del nostro Paese in grave difficoltà, come ricorda Pierpaolo Flamini, giornalista e referente economico per ME e MMT Mark. L'economia italiana e europea è stata finanziarizzata, ovvero lo Stato ha iniziato a ridurre il deficit, quindi sono crollati i risparmi degli italiani, perché comunque se lo Stato taglia la spesa e aumenta le tasse, gli italiani si trovano meno soldi in tasca e per continuare il loro stile di vita hanno solo una strada, quindi rivolgersi alle banche e quindi indebitarsi per comprare magari l'automobile, magari l'appartamento, ma anche per far studiare i propri figli. Quindi quando arrivano in crisi praticamente le persone che sono indebitate a un certo punto non hanno più il reddito perché vengono licenziate, le aziende chiudono, quindi queste persone hanno dei debiti ma non hanno più le entrate che sostenevano questi debiti. Le banche che devono rientrare di questi crediti concessi si trovano anche loro in una situazione molto complicata, le famiglie e le imprese non hanno più quella liquidità che avevano fino a qualche anno prima e non possono rientrare con questi crediti. Si è aggiunto qui in Europa una follia dettata da interessi espliciti che è stata quella di incrementare questa misura di austerità, ovvero a fronte di questa crisi le tasse sono state aumentate, è diventata la spesa pubblica, quindi la crisi si è ulteriormente aggravata, le banche non sono a un certo punto più rientrate di questi crediti che avevano concesso e ci sono state poi anche delle derive finanziarie ovviamente con i cosiddetti derivati, tutti i marchigieni finanziari che hanno complicato ulteriormente la situazione bancaria. Quindi è una crisi che si origina non per caso ma ha delle precise responsabilità politiche nazionali e comunitarie. Il problema finanziario che monta nelle banche commerciali italiane ha forse mostrato solo una parte della sua gravità con questo ultimo episodio. Il blogger e trader finanziario Giovanni Zibordi, tra i relatori a Senigallia, accena possibili sviluppi della vicenda. La crisi di queste quattro banche che sono state salvate nelle ultime due settimane è piccola come dimensione, però è un avviso di quello che può accadere velocemente. Di nuovo come è successo nel 2008 e 2009. La sostanza è che la maggior parte del credito che creano le banche non va a usi produttivi e le banche creano la maggior parte del denaro che utilizziamo. Questo fa sì che le banche debbano periodicamente essere a loro volta poi salvate quando la gente non riesce a ripagare la massa di debito che creano. Ed è quello che è successo nel 2009-2010, è quello che è successo con le banche centrali, Draghi e gli altri che hanno dovuto intervenire. E di nuovo adesso si sta ricreando una situazione in cui c'è questo pericolo. L'alternativa è in parte nazionalizzare le banche e metterle sotto il controllo pubblico e in parte creare un sistema di banche locali, decentrato, banche che lavorano solo sul territorio, che non investono in derivati, che non investono all'estero, che non fanno operazioni di finanza complessa, speculativa. Banche che, come tra l'altro avviene in Germania, dove la maggior parte delle banche, l'Andesbank, l'Esparkassa, sono banche locali. Sono banche semipubbliche legate al territorio e rispondono sostanzialmente alla comunità, l'associazione di categoria. Scopi e organizzazione di ME e MMT Marche, chiarite ai nostri microfoni dal suo presidente Tiziano Tanari. Noi seguiamo alcuni economisti, una scuola di pensiero keynesiano. Abbiamo creato questa associazione per fare attivismo. Quello che noi vogliamo fare, il nostro compito primario, è fare informazione. Cioè stimolare le persone a capire alcune basi fondamentali della macroeconomia. Cerchiamo di divulgare in modo semplice e chiaro. Siamo appartitici, pur avendo all'interno persone che militano in partiti diversi, perché il destino e l'interesse è comune. Quindi noi dobbiamo far capire il nostro impegno, spiegando le basi fondamentali della macroeconomia, ripeto in poche parole, perché riteniamo che l'attuale impalcatura dell'Unione Europea, dell'euro e tutto quello che è, è demenziale. È letteralmente demenziale. Non si basa su nessun principio economico presente nella letteratura mondiale di tutti i tempi. È un'anomalia sotto tutti i punti di vista. E guardiamo le cose solo dal punto di vista economico, perché guardiamo le cose anche dal punto di vista democratico. Tutte queste realtà di cose vanno rese palesi alle persone, perché purtroppo abbiamo i media che non ci stanno assolutamente aiutando a fare chiarezza. Anzi, continuano a propagandare quello che il maestro in comune indica come linee guida e lascia passare sotto tono delle dichiarazioni, delle azioni che sono terribili. Invitiamo le associazioni di categoria, zero assoluto, disinteresse totale. Invitiamo i sindacati, disinteresse totale. Invitiamo i politici, quasi tutti, disinteresse totale. Vivono in un'ignoranza devastante, signori facciamo qualcosa perché siamo arrivati alla frutta. Sta per scoppiare qualcosa di grosso. L'evento senegalese, organizzato da Simone Goffi, attivista di ME e MMT Marche, costituisce un momento importante per l'associazione, come egli stesso è precisa, ai nostri microfoni. Abbiamo sentito la necessità, visto che in TV ultimamente si sente spesso parlare, volentieri, del sistema bancario, solido o non solido. Questa conferenza è organizzata in brevissimo tempo grazie all'associazione MMT e grazie a tutti gli attivisti che lavorano per questo, per portare, secondo noi, la vera informazione nelle persone, nella testa delle persone, soprattutto messo in relazione con i trattati europei sottoscritti dall'Italia, rimesso in relazione anche con l'istituzione italiana che è molto diversa dagli trattati europei. Purtroppo i nostri TG, i quali dovrebbero fare informazione vera, non stanno facendo, anzi, stanno spesso deviando l'opinione pubblica su cose molto soft, ma in realtà stiamo seduti, secondo me e secondo noi, sopra una bomba abbastanza potente. In collaborazione con Pittura Edile Goffi, Trattamenti e soluzioni per l'involucro edilizio, Via Piave 159, Santa Maria Nuova, Ancona.